Nessuno ci ha aiutato, associazioni di categorie comprese che non mi hanno mai interpellato. Viviamo male perché non sappiamo che cosa ci aspetta. Alla fine del mese è lo sfogo di Leonardo Vitale, socio del Pinobar di Fano, che già lo scorso anno aveva denunciato pubblicamente gli aumenti improvvisi in bolletta. Si diceva che forse era questo Covid che creava dei problemi, perché eravamo chiusi, ma essendo chiusi non doveva esplodere il caro energia. E devo ricordare che l'anno scorso, nel mese di giugno, la guerra in Russia non esisteva. Per cui, secondo me, i motivi per cui questo caro energia a livello nazionale è così aumentato a dismisura è perché lo Stato, per fortuna devo ringraziare lo Stato, che ci ha aiutato nei momenti difficili con dei bonus, i bonus bicicletta, i bonus televisore, i bonus vacanza, i 110, rettito di cedenanza, tutte gran belle cose che però, secondo il mio punto di vista, oggi lo Stato si vuole riprendere in qualche maniera quei soldi che ci ha imprestato. Le bollette che mi sono arrivate sono raddoppiate, ha proseguito Vitali, e ora ci troviamo in difficoltà, sono cifre esagerate. Una bolletta di 13.700 euro, un mese, il mese di giugno scorso, dove io con questa compagnia non ho nulla a che vedere, perché non l'ho mai interpellata, sono subentrate a fornitori falliti. Quanti caffè dovrebbe vendere per pagare queste cifre? Aumentare un caffè è un cane che si morde la coda, nel senso che se io aumento il caffè, al posto di farne 100, ne faccio 80, 70, 60, perché non tutti più si possono permettere di venire a comprarmi il caffè, di fare una colazione, di mangiare un gelato. Qui noi dobbiamo chiedere che ci vengano diminuite le spese. I fornitori si trovano in difficoltà come noi, ha aggiunto l'imprenditore, così come i clienti a cui gli stipendi non sono aumentati. Quando qui arriva un pensionato o arriva un operaio, che la sua busta paga o la pensione è sempre quella, lui come fa a far fronte? Io vendo un prodotto non primario, del gelato e del caffè si può fare a meno, per cui le dico che il mio inverno sarà bellissimo, se lo Stato ci aiuta. Se lo Stato non ci aiuta non lo so dove andiamo a finire. Grazie. Grazie.